Le commissioni Economia e Ambiente del Consiglio regionale, riunite in seduta congiunta e presedute dal Presidente della Quinta Commissione, hanno espresso parere favorevole alla proposta di delibera della Giunta sulle termovalvole. Si prevede la proroga di due anni, dal 1 settembre 2012 al 1 settembre 2014, dell'obbligo di installazione di termovalvole per la termoregolazione e contabilizzazione del calore in ogni unità abitativa.